Musica Salve a tutti ragazzi, sono ZenoMadonnaZMHP e benvenuti in questo secondo episodio della serie Giochi Online più che altro penso di rinominare questa serie come Giochi Indie perché ho trovato dei siti dove prendere questi giochi indie comunque questo gioco è stato già giocato da Marco da Marcus a me non interessa, voglio provarlo anch'io allora, dovrei organizzare TF il lato davvero organizzato premiamo lo spazio per iniziare figo c'è già un orologio in sottofondo ok, allora muoviti con WASD hold left shift to run ok left shift, ok aspetta, press space to interact oh, figo, ok quindi per prenderlo, presumo rimettiti bene? rimettiti bene! ho detto rimettiti bene vaffanculo Q4 checklist allora, il nostro obiettivo è prendere tutte queste cose allora, un vaso una game console un lettore di DVD una videocamera un computer un case del computer un portatile un forno a microonde e una barra d'oro allora, questo non è un vaso, vero? no, ok allora, un lettore di DVD ops elevati uh, un computer fuori uno ok, è uscito il coso ok, abbiamo preso il computer oddio, ma questo è ma che diavolo è peggio di God Simulator qua andiamo un poco qua c'è qualcosa non mi pare ok questa è una lampada questo è un vaso ma mi serve un vaso oddio, quanto è brutta eh, se accendessi la luce wow ok vediamo qua che cosa c'è uh, forno a microonde eh un 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 telefono wow dove l'ho buttato? non lo so eh, un cestino no, no apriamo le porte anche visto eh un cuscino un orologio una tv eh ho fatto cacca sotto una tv il lettore di dove cacchio sta ma forse di qua qua c'è un telefono una tatuina eh non credo vediamo un po' posso scappare? ah, vediamo qua che ci sta oh è tutto un giro strano sembra la casa dei Simpson simile saliamo al primo di sopra vediamo un poco vediamo qua chi c'è uno al set eh qua c'è un iPad eh qua c'è un oh videocamera perfetto soldi buono che altro devo prendere computer tower devo trovare un computer apriamo la porta siamo dei ladri educati noi oddio mamma mia che la camera è la figlia questa ok questo è il lettore dvd questo è il gioco rimanga il computer il vaso e la barra d'oro che cos'è un vase? non lo so vabbè cerchiamo non lo so non lo so questo è un cesso non penso sia un vaso apriamo l'acqua non lo so vediamo un po' ok sto tornando mi sa che è tornato siamo abbastanza fottuti via nell'armadio nell'armadio no mettiamoci qua dentro vediamo bloccato cacchio è scattato l'allarme via 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 dov'è? no che cacchio è un canguro? what the fuck aiuto no no aia aia che cacchio mi sta picchiando un canguro? corri 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 via aiuto aiuto mamma dov'è? dov'è? eccolo arriva corri 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 aiuto un canguro mi vuole stuprare da dove viene? oddio oddio eccolo eccolo oddio spegni la luce ho fatto salto forse non mi vede forse non mi trova cazzo è arrivato corri no sedia di merda no no la faccio bene ragazzi non lo so da quando sto registrato però penso che una seconda possibilità possiamo farla allora oddio computer travel portrait of a lady allora portrait of a lady è questo ritratto ok facciamo subito un barbecue che cacchio lo prendo aspettiamo che certo ci sta giuro di box blender radio e gold bars gold bars gli piace proprio a questo non c'è più il computer l'ha tolto accendiamo le luci che devo prendere? un computer di barbecue una scatola dei gioielli una radio e una barra d'oro come si prende? buah buttiamoli tutto uh soldi i soldi fanno sempre bene allora apriamo la porta alla fine diventa oro sto gioco forno a microonde una padella non lo so ah c'è qualcosa anche qua dentro blender ok niente che ci sta? non lo so ok però ho trovato a blender oddio c'ho fame prendiamoci un panino va ho detto no idiota chiuditi prendi il panino prendi il panino buttalo là ok siamo mangiati il panino qua già ci siamo andati oh qua però non ci siamo venuti apriamo qua c'è una mazza prendiamo la scatola non ci sta una sega niente ah questo è il vaso che dovevo prendere fuck ho i vasi ah 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 qua c'è altra roba ecco la radio soldi cioè io boh non lascerei mai i soldi da soli mi si è buggato ok non so cosa ho staccato comunque ho staccato un sacco di roba allora qua ci dovrebbe essere barbecue si eccolo qua barbecue poi low moaner ah ok la farciatrice che altro ci manca? il computer cosa dei gioielli allora bisogna scappare sopra corri 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 che è tardi corri 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 che è tardi dai ok soldi poi qua che c'è altri soldi è un profumo non ci faccio una mazza no aspetta era questa ok che mi manca? il computer eeeh questa è bloccata questo è il cesso non penso di trovare ah devo cercare oh soldi prendi soldi ok soldi fanno sempre bene devo trovare se non mi ricordo male la chiave del oddio c'è una mazza c'è una mazza scusa il computer dov'è? cercasi computer questa c'è un computer ma ma portatile apriamo che ci sta? oddio what the fuck ok sono i vestiti sta tornando cacchio 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 soldi buono no è tornato spegniamo la luce lo so che non vedete nulla stavi entrando il canguro forse non ci trova zitti mi chiudo qua dentro ok oddio sono paura che viene quel canguro vedo una mazza non vedo dov'è quel canguro di merda oddio no l'ho visto no mi ha visto corri 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 chiudi la porta chiudi la cosa no aia vaffacculo corri via corri via corri voglio uscire ah ah posso scappare ok con 33 3 milioni no 3.000 331 dollari e non sapevo che non sapevo che potrebbe scappare anche prima comunque sono scappato con 331 dollari di roba in 5 minuti e 5 secondi gli ultimi 5 secondi sono stati per scappare da quell'idiota facendo di te un lato organizzato ok quindi ragazzi vedete che per questo secondo episodio di questi giochi online indie gna 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 benvene è tutto ciao a tutti oddio ho sfondato quasi le cuffie ciao a tutti